Ti presentiamo? Ma subito! Insieme? Insieme! Tony Ray! Vai, vai! Vieni, vieni Tony, eccolo qui al volo! Prego, prego, prego! Tony, vola! Oh, vola, vola! Lui ci mette un po' perché... Prego, maestro! Ciao! Ma... Ciao! Ciao, Tony! Ecco, vieni! Eh, alla grande! Non ci vediamo da un'altra! Maestro, tutto posto? Bene, bene! Mi fa piacere! Allora, io direi che ti facciamo cantare! E lo presenta lui questo pezzo, sai? Bellissimo! Beh, Trust Me è un pezzo famosissimo del grande Elvis, significa Mi fai male! Perfetto! È un pezzo che pensate, io scambiando qua quattro chiacchiere con il nostro amico Bobby Solo, disse che si ispirò a questa canzone per fare Se piangi, amore... E invece adesso sentiamo me che canto Elvis! E dopo diciamo perché è ritornato, lui è già stato, non tanto tempo fa, uno dei pochi della scorsa stagione che è ritornato Sì, sì! Perché c'è anche un motivo che dopo lo diciamo! A me ha fatto molto piacere essere qui! Perfetto! Ci voleva un microfono ma fa niente, gli diamo questo, ok? Ma il tuo funziona bene come... Funziona! Per la mia bocce va bene! Perfetto! Allora posso cantare! È calibrato! Vai! Vai! Tony, vai! Allora posso cantare! Allora posso cantare! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Secondo me è un'altra persona che non vedo da tantissimo tempo Sono tornato e mi fa molto piacere essere qui ancora Tu sei tornato perché so che stai preparando qualcosa, giusto? Allora è una cosa diversa dalle altre, non è un tributo, è un remembering Elvis, vuol dire che col mio stile, con la mia voce, interpreterò questo grande mito mondiale che ha, voglio dire, influenzato tutti quanti, perché chi non è stato influenzato da Elvis Presley? Anche io presento Bravo, ma c'è qualcuno con te che deve presentare? Certo, vorrei presentare Viviana Exo Oh, prego Viviana, eccolo qua, devi usare questo qua, va bene, ti hanno dato il microfono sbagliato ma io sono sempre sul pezzo Prego, prego, prego Grazie mille Vabbè, voglio dire che lei è la presentatrice di questa Kermess, oltre ad essere anche una coreografa, ballerina, è stata anche la vincitrice del premio Stefania Rotola Sì, ho fatto tante cose, ho cominciato a lavorare tanto tempo Me la fai salutare che non la faccio da vent'anni, ciao No, no, ma vieni, no, facciamo, ma sì, ma non è un po' Caramba che sorpresa Ma certo, caramba che sorpresa E io avrò l'onore di presentare il prossimo spettacolo che faremo al teatro Ideal di Varedo, il 16 di novembre Sarà uno spettacolo meraviglioso, dedicato alla musica di Elvis, con la grandissima voce di Tony Ray Perfetto, quindi tu presenti, lui canta, giusto? Sì, poi ci sono tante sorprese Perfetto Ballerò anche, ci sono delle scuole di danza che interagiscono con noi, c'è un momento cinema, insomma sarà proprio uno spettacolo Quindi invitiamo tutti ad andare per una vescita, spettacolo, concerto Perfetto Speriamo che va bene No, speriamo non si dice, non porta bene, vogliamo che vada bene Vogliamo che vada bene Ma per forza, sicuramente Sicuramente Adesso Lascio la meravigliosa voce di Mr. Tony Ray Perfetto E allora, e allora, lo presenti tu questo pezzo? Lo presento io? Sì Sì Se mi dici qual è, te lo presento io Vediamo, si ha studiato Ok, I want you with me Con la meravigliosa voce di Mr. Tony Ray A studiare Grazie Prego La meravigliosa voce di Mr. Tony Ray 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 anche l'altra volta ma questo funziona adesso funziona ti faccio accomodare grazie ragazzi Ivanda tornati in studio con noi di nuovo Tony e Viviana allora Viviana vuoi ripetere anche quello che hai detto prima ma se no anche un'altra cosa ricordiamo il nostro spettacolo importantissimo il 16 di novembre al teatro Ideal di Varedo e vi aspettiamo tutti perché è un grandissimo show dedicato alla musica di Elvis cantato live ovviamente da grande Tony Ray e poi sarà uno spettacolo pieno di sorprese con una grande band e soprattutto ringraziamo la italiana Eventi che ci ha dato questa opportunità che organizza queste belle cose grazie di cuore ciao Viviana stavolta ti ubui io il microfono siccome io e te siamo due menti sospettose cioè cosa canti? suspicious minds che è quella lì è quella lì hai capito sempre che ha fatto così ti spiego io sempre che ha fatto così perché lei è l'inglese non è che lo mastica bene e allora te l'ha fatto a dire te dai dai vieni qua va lui non sa l'inglese dai 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 inglese non sa l'inglese non sa l'inglese non sa l'inglese ma When you don't believe in what I said We can go all together with suspicious smiles And we can build our dreams on suspicious smiles So wonderful friends I know Strapped by and say hello All I still see is suspicious in your eyes Here we go again Asking where I've been You can sit your tears while I'm crying We can go all together on suspicious smiles And we can build our dreams on suspicious smiles All of our love survives Oh, dry the tears from your eyes That's all of my girlfriend dying Honey, you know I'll never, never lie to you Mmm, yeah We're a car and a truck I can't walk out Because I love you too much, baby Don't you know, why can't you see What you do to me When you don't believe in what I said Don't you know, a car and a truck I can't walk out Because I love you too much, baby Don't you know, a car and a truck I can't walk out Bravo, bravo Tony Grazie Grazie davvero di cuore No, no, ma stai qui adesso Sì, sì Perché chiamiamo un po' tutti E poi sentiamo che siamo alla fine All'ultimo pezzo Grande finale Ci tenevo a dire che lui canta anche molti brani in italiano Ma tutti con una sua particolarità Certo Sì, sì, no, no, un personaggio questo No, 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 no Grazie a tutti